All'andata, storia di quattro mesi fa, decise questo piazzato di Cosimo Chiricò con duplice deviazione della barriera, quando si dice l'imponderabile, sconfitta ingiusta per il Pescara, che alla vigilia del big match con il Catanzaro vantava un punto di vantaggio sulla Crotone. Fino a quel momento i Biancazzurri erano la splendida sorpresa della campionato. Per contro, nelle ultime sette gare, profonda involuzione, vera e propria crisi. Nel frattempo il ritardo dalla Crotone è salito a 12 lunghezze, addirittura a 21 dal Catanzaro, che prima dello scontro diretto dello scorso 27 novembre, un mese e mezzo fa, aveva soltanto tre punti di vantaggio sul Delfino. Il Pescara dell'ultimo periodo è in palese crisi d'identità. Urge ritrovare compattezza. Il problema è anche tattico, squadra spesso aperta, di conseguenza fragile. Decisamente troppi gol subiti, ben 15 nelle ultime otto partite. Colombo sembra orientato a confermare lo stesso 11 schierato col Latina. Plizzari tre pali in difesa, Cancellotti, Brosco in grosso e Milani in leggero vantaggio quest'ultimo sull'ex Crescenzi. A centrocampo Craia, Aloy e Mora in attacco Cuppone, Tupta e De Sogus. Quinta panchina di fila per Facundo Lescano. Dall'altra parte una squadra, il Crotone, che all'uscita ha fatto registrare un percorso quasi netto. Un solo pareggio con la Gelbison e tutte vittorie, di cui 5 per 1 a 0. Appena due le reti incassate in casa, dove gli squali non perdono dal 6 maggio dello scorso anno. 1 a 0 con la Parma in B. Sono due le assenze pesanti. Petriccione per la squalifica e Mogos causa infortunio. Dovrebbero partire tutti dalla panchina i nuovi, Delrico, gli ex Cernigoi e Dursi, che tuttavia ha già debuttato a Monopoli. Sistema di gioco 4-3-3. Il probabile 11 Dini tre pali in difesa Papini, Golemic, Bove e Giron. A centrocampo Aua, l'ex Carraro e Vitale. Davanti Chiricò e Tribuzzi a supporto di Gomez, ex giovanili del Delfino. Una miriade di precedenti, la prima volta nel 1959-60, 1 a 0 per i calabresi. In totale all'uscita 29 sfide, 14 successi del Crotone, 8 del Pescara, 7 pareggi. L'ultimo dei quali, il 4 novembre 2007, il tecnico di Biecazzurri era proprio Franco Lerda. A basso risponde Franco Micco, sempre in C. 2 marzo 2003, stesso risultato, il Crotone dall'ex De Rosa. In croce al Pescara di Ivo Iaconi, poi promosso in B. Tra i rosso-blu, il leader era Ivan Juric, attuale allenatore del Torino. Bonfanti la sblocca, grazie a questa magia, di Federico Giampaolo. La giocata del fantasista Biecazzurro è di altissimo lignaggio. 1 a 1 dell'ex Edoardo Artistico su calcio di rigore. In B, 15 dicembre 2006. La prima panchina di Vincenzo Vivarini, in coppia con De Rosa, munito di patentino. Finisce 2 a 2. Il 23enne difensore di Giulianova, Stefano Olivieri, firma il suo primo gol tra i professionisti. Con questo operettorio a colpo di testa, momentaneo 1 a 1 di Nanni. Nuovo sorpasso del Delfino con Andrea De Falco. Il 2 a 2 definitivo, siglato da Cariello. 6 novembre 2010. Il Pescara di Eusebio Di Francesco espugna l'uscita. Decide questo sinistro da fuori di Massimo Bonanni. Notte speciale, il 31 gennaio 2012. Il Pescara di Zeeman vince 2 a 1 in rimonta e conquista la vetta della classifica di Serie B. Florenzi illude 1 a 1 di Ciro Immobile. Nella ripresa, il gol partita di Emmanuel Cascione. Da brividi, l'accoglienza dei tifosi al ritorno della squadra in aeroporto. Il Pescara di Eusebio Di Francesco espugna l'accoglienza dei tifosi al ritorno della squadra in aeroporto. Il Pescara di Eusebio Di Francesco espugna l'accoglienza dei tifosi al ritorno della squadra in aeroporto. Pescara di Eusebio Di Francesco espugna l'accoglienza dei tifosi al ritorno della squadra in aeroporto. Il Pescara di Eusebio Di Francesco espugna l'accoglienza dei tifosi al ritorno della squadra in aeroporto. Dopo qualche mese, 12 ottobre 2014, affidato a Marco Baroni, il Pescara si riscatta e cala il poker. Apre Lazzari, raddoppia Pasquato, Politano fallisce il 3 a 0 dalla dischetto, Torregrossa a Corcia, palo di Clayton Dos Santos. E allora sale Cattedra, Federico Melchiorri, doppietta d'autore, due assori strepitosi, il classe 87 e il mattatore della partita finisce 4 a 1. L'ultimo successo Biancazzurro, 18 febbraio 2019, il Pescara di Beppi Pilon si impone 2 a 0, marcatori Monachello, ispirato da Mancuso e Ugo Campagnaro, gol capolavoro di Tacco su corner di Gaston Brugman. Infine in Serie C, 31 agosto 2008, il giorno del debutto in campionato del 15enne Marco Verratti, utilizzato da Beppe Galderisi tra le linee alle spalle di Bazzani e Zeytulaev. Maglia numero 10 e malgrado la verdissima età, tante giocate di spessore, eccone un paio. Vittoria tuttavia al crotone di Francesco Moriero, poi promosso in B, 2 a 0 le firme di Triarico e di Espinal.